Allora, ciao a tutti, io mi chiamo Alessandra Tinozzi, sono una late bloom coach che vuol dire sostanzialmente che sono una life coach che si occupa di accompagnare, sostenere le donne nelle loro fioriture personali tardive. Lui è Renzo, mi accompagna. Renzo, mettiti giù per favore. Una domanda, io ho 55 anni, siccome vi parlo di età, di tempo eccetera, quante sono le persone, possono alzare la mano quelli che hanno meno di 30 anni? Bene, quelli che hanno più di 40? Ok, va bene, ci siamo. Tanto ho tarato al volo, ho tarato al volo lo speech. Allora, io più che un talk vorrei fare una rivelazione, quindi spero di cavarmela velocemente. La rivelazione è questa. Prendete appunti. Invecchiare non è male. Adesso sembra un po' l'acqua calda, però un po' come dire che il re è nudo, no? Cioè alla fine poi tutti lo sapevano, eh sì sì, certo. Però prima uno non se ne accorge, no? In realtà il mio desiderio è quello veramente di motivarvi, al di là della provocazione, che invecchiare non è male. Quando si invecchia, cioè passati, diciamo passati 50, non so, facciamo una, tagliamola così, con questo tipo di, diciamo che dopo i 50 io volevo rassicurarvi che si fa ancora l'amore. Ci si innamora, si iniziano delle avventure, si partono per dei viaggi, si fanno delle, si fanno dei business, si perdono dei soldi, si guadagnano dei soldi. Insomma c'è vita dopo i 50, ve lo assicuro. Ve lo assicuro, sembra una provocazione, una banalità, ma guardate che veramente abbiamo tantissimi messaggi che ci vanno a dire che va bene avere 50 anni, ma ne devi dimostrare di meno. Va bene avere una certa età, ma devi essere più giovane, lasciamo perdere tutta la, come dire, la polemica di tutte queste creme anti-age, cioè anti-age è già una parola che fa male, perché è anti-età, e l'età è il nostro progredire in questa vita, vuol dire che siamo sani, che siamo sopravvissuti a una serie di eventi e una serie di personaggi, quindi cominciamo a avere un certo spessore. Una parola che io vorrei che voi portaste a casa come sdoganata, rispetto alla quale vorrei che facessimo tutti insieme o più attenzione, è vecchio. Allora, vecchio non è una parolaccia, e per inciso neanche vecchia, che sembra ancora peggio, è vecchia. Vecchio non è una parolaccia, vecchio è un aggettivo che ci dice che è una persona, un evento, una situazione, è lì da un po' di tempo, da più tempo, quindi ci sta dicendo un dato che è neutro, al quale noi invece appiccichiamo una serie di contenuti, di riflessioni e di sinonimi negativi, soprattutto declinati al femminile. Oggi insomma a me sono piaciuti questi talk, perché c'è, come dire, c'è molta questa declinazione, no? C'è proprio la voglia di non declinare senza genere, no? Un'altra parola della quale vi voglio parlare, che voglio portare su questo palco, è egeismo, che è una parola bruttissima, veramente, perché è veramente tirata via dall'inglese così, no? Egeismo. E' una parola che ha poco meno della mia età, perché del 1969 l'ha coniata a questo gerontologo americano, che si chiama Butler, e per egeismo si intende, me lo sono andata a vedere proprio sulla Treccani, il pregiudizio e la svalorizzazione ai danni di un individuo in ragione della sua età. Allora, come tutti gli ismi, egeismo è una parola che stona, che uno dice, ma abbiamo bisogno di una parola in più davvero? Come tutti gli ismi, all'inizio da fastidio, però come tutti gli ismi, sessismo, razzismo, eccetera, ci vanno ad indicare, ci vanno a segnalare una attitudine interna ed esterna della quale possiamo finalmente essere consapevoli. Allora, egeismo è la pressione di questa società che in modo nuovo è assolutamente vecchiofobica, vecchiofobica non esiste, ma avete capito che cosa voglio dire, rispetto al quale veramente invecchiare è un problema. E nello specifico invecchiare per una donna è ancora più un problema, non è che voglio farla lunga, ma è così e lo sappiamo. Una cosa che mi preme dire rispetto all'egeismo è che non voglio fare nessuna polemica rispetto al fatto della pressione della pubblicità o della società patriarcale che ci sottopone a questa discriminazione. Vorrei più che altro invitarci tutti, me per prima, ad andare a vedere come questa attitudine di svalorizzazione rispetto alla nostra età ce l'abbiamo dentro noi, ce l'abbiamo dentro rispetto agli altri, ma più che tutto ce l'abbiamo dentro verso noi stessi. Cioè la peggiore discriminazione egeista ce l'abbiamo noi nei confronti di noi stessi, molto spesso. Quante volte diciamo non è più tempo, ormai, vabbè, cosa vuoi che faccia? Cioè a questo tempo, sono una vecchia scaronfia, ormai, ormai questa cosa non si può più fare, questa situazione sentimentale non si può più cambiare, questa situazione lavorativa. E se non lo diciamo a chiare lettere, lo diciamo nel sottotesto, perché lo crediamo profondamente, perché è molto scritto dentro di noi. Nelle favole, i vecchi, ce ne sono pochi nelle favole di vecchi, quelli che ci sono, generalmente maschi, ricoprono ruoli di un certo qual prestigio, tipo il re, il vecchio re saggio, il vecchio mentore, il mago, insomma, e via discorrendo. Per quanto riguarda le donne, dopo una certa età, e lo metto tra virgolette perché ci torno su una certa età, dopo i 50, allora, non c'è più niente, c'è un buco, intanto c'è un buco. Tra i 40 e gli 80 le donne non esistono, cioè puoi fare la matrigna, se ti va bene. Poi passi immediatamente, dopo, passi immediatamente a strega, immediatamente. Bene che ti vada, puoi fare la vecchina, con un bello scignon bianco, dentro una capanna, generalmente finisce e vieni mangiata dal lupo e non hai diritto di parola. Adesso, senza entrare proprio nello specifico delle favole, però questo proprio per andare a raccontarci che esiste un immaginario molto radicato dentro di noi rispetto al fatto che dopo una certa età, per l'appunto, per le donne, non c'è spazio, c'è un ruolo tutto da inventare, c'è una possibilità tutta da inventare, tutta da creare. Per questo, io mi sono fatta anche la maglietta, per questo mi occupo di Late Bloom Revolution, perché credo che sia ora di fare proprio una rivoluzione, cioè non un cambiamento graduale, ma proprio una rivoluzione, un cambiamento a partire dal nostro stesso modo di pensare, di vedere alla nostra vita, che è quello di riconoscere che non esistono fioriture tardive. Tardiva, a livello botanico, tardiva non significa che è in ritardo, significa che è destinata a fiorire in una stagione diversa. Ok, ci sono delle fioriture che sono quelle primaverili, hanno i colori di pastello e quella cosa lì, e poi ci sono le fioriture estive, che hanno colori forti, profumi intensi, poi ci sono le fioriture autunnali e poi ci sono anche le fioriture invernali. C'è un fiore che è l'Elleboro, che è la rosa di Natale, che fiorisce, una rosa, che fiorisce proprio nei giorni intorno a Natale, proprio intorno al sostizio di inverno, quindi nel momento più freddo e più buio. Ora, l'Elleboro non è che è in ritardo rispetto alle rose di maggio, cioè non è che si è perso via, che dici, ma tu dovevi fiorire a maggio, del 6 dicembre, no, cioè l'Elleboro ha proprio questa missione di fiorire pienamente nel cuore dell'inverno e quindi di portare quel tipo di fioritura e di incoraggiamento in quel momento lì, è proprio capace a fare quella cosa lì. Quindi vi prego di declinarvela un po' nella vostra vita, questa metafora botanica. Però volevo portarvi a supporto della mia teoria, che appunto, che invecchiare non è affatto male, volevo portarvi quattro punti, anzi no, scusate, sei punti rispetto ai quali, proprio qua siamo dentro un freelance camp, rispetto ai quali essere freelance dopo una certa età ha dei vantaggi, ha proprio dei vantaggi. Credo che quando li dirò voi direte, sì, eccetera, infatti dobbiamo forse solo esserne più consapevoli e iniziare a parlare di noi stessi e noi stesse in un altro modo. Allora, il primo punto, il primo vantaggio, che per inciso non è che questi vantaggi vengono con l'età, nel senso fai 50 anni e poi ti arriva un pacchetto di vantaggi, ti devi un po', come dire, spendere, faticare, cercare, migliorare, insomma, e poi forse li puoi portare a casa. Allora, il primo, non banale, è che forse hai la possibilità, dopo una certa età, di essere e di sapere chi sei. Sapere chi sei, sapere cosa ti piace, sapere cosa non ti piace, sapere cosa sai fare e sapere cosa non sai fare. Un po', eh, cioè, non facciamoci delle illusioni che poi sia tutto perfetto dopo una certa età, però un po' di più rispetto ai miei 30, ai miei 20, ai miei 40, io so queste cose ed è un grande vantaggio per il nostro branding. Il secondo punto, il secondo vantaggio è che quello che fai, che sia intraprendere una nuova avventura di business o portarle avanti una consolidata, è che hai la possibilità di farlo veramente per te. E qui, nel senso di smettere di corrispondere alle richieste e alle esigenze degli altri. Quindi non lo fai per tua mamma, non lo fai per tuo marito, non lo fai perché così è meglio, tutti pensano così, ma lo fai davvero perché rispondi a un'esigenza economica, di missione, di piacere, che è tua. Il terzo vantaggio è che per certo hai già fallito. Abbiamo parlato di fallimento questa mattina, però guardate, un conto è fare la teoria sul fallimento e un conto è la forza delle esperienze che sono arrivate questa mattina su questo palco. Aver fallito e aver visto che si è sopravvissuti, anzi forse per certi aspetti si è anche migliorati, è un grande vantaggio nel procedere nel nostro business. Quarto vantaggio, abbiamo sviluppato la capacità di non piacere a tutti. La capacità, il coraggio di poter essere eccessivi, ridicoli, strambi, autoritari e quant'altro. Cioè smettere di compiacere, proprio di avere questo focus sul piaccio o non piaccio, che rimane, però. Il quinto punto è che abbiamo compreso che gli altri sono una risorsa. Abbiamo compreso che questo pezzo di cammino, di lavoro, non è una cosa che possiamo fare da soli e che gli altri sono veramente una risorsa e che possiamo aprire questo canale nel dare e nel prendere, nel chiedere e nel rispondere alle richieste. E questo veramente ci allevia tantissimo il cammino. Ultimo punto, abbiamo la riprova. Quindi abbiamo sperimentato e abbiamo la riprova che non abbiamo perso tempo. Cioè che tutte le esperienze, le persone, i corsi, le avventure, le disavventure, le competenze, i viaggi, eccetera, che abbiamo fatto nella nostra vita, sono tutti tasselli che a un certo punto, in un modo abbastanza strambo e miracoloso, si completano in un puzzle, che è il nostro business e che è la nostra vita e che diventa veramente preziosa e meravigliosa, proprio perché è fatta di quei tasselli lì e nessuno ha proprio esattamente i miei. E quindi ci rendiamo conto che questa bubbola del ho perso tempo, sono arrivata tardi, è veramente una bubbola. Questa era l'ultima. Io spero di avervi velocemente convinto che invecchiare non è così male e vi invito a portare avanti questa rivoluzione, questo cambiamento nel vostro modo di pensare e anche nel modo di condividere. Non ci sono trentenni qua. I più spaventati dall'invecchiamento sono proprio i ventenni e i trentenni, perché gli raccontiamo di un modo difficile di invecchiare, dove invecchiare vuol dire scimmiottare una gioventù. Invece invecchiare è invecchiare, invecchiare ha la sua peculiarità, come la rosa d'inverno. Quindi vi invito ad aderire a questa Late Bloom Revolution e andate e invecchiate in pace.